Salve ragazzi, sono Gabri Costa. In questo gioco di Metal Gear Solid 4, visto che siamo nel secondo atto in Sud America, dobbiamo lasciare la centrale elettrica dopo che abbiamo salutato Drabin e la sua scimmia. Sapete dove si va adesso? Si va in un posto dove nessuno ha mai messo piede. Dobbiamo proseguire e andiamo avanti. Noi dobbiamo raggiungere il laboratorio dove è prigioniera la dottoressa Naomi Hunter. Andiamo a salvarla. Facciamo in fretta. Non ho voglia di parlare con il Codec, non posso perdere tempo. Sapete dove siamo adesso? Ora siamo alla struttura di reclusione. Andiamo a vederla, la struttura di reclusione, ma facciamo molta attenzione perché lo sai siamo in guerra e poi le perdite in guerra sono sempre inevitabili. Voi lo sapete perché io voglio salvare la dottoressa Naomi Hunter? Perché in Metal Gear Solid mi raccontava quando era una piccola orfana sporca trovata in Rhodesia negli anni Ottanta e poi non sapeva nemmeno chi erano i suoi genitori, qual era il suo vero nome. Accidenti quanti veicoli. Poi ci sono anche degli elicotteri. Prima controlliamo sulla mappa la direzione giusta. Quella freccia blu siamo noi. La riga rossa invece ci indica la strada giusta. Cosa dobbiamo fare? Non togliamocela mai la mimetica otea, ci serve. Ecco, il problema è come faccio a passare. Forse è meglio trovare un'altra strada. Non voglio uccidere nessuno ragazzi, non voglio fare uccisioni. Lo so che in Metal Gear Solid uccidevo tutti. Va bene, facciamo il palazzo vista. E facciamo la svelta. Ecco, questo è il palazzo vista. Questi sentono dei passi. Ma io ho la mimetica ottica, così non c'è il rischio che mi beccano. Guardate che cosa succede. Arriva un grosso bulldozer. E fa spaccare tutti i recinti. I ribelli hanno un bulldozer blindato. Gli do fuoco di copertura. E guardate dove va questo bulldozer. Ok, proseguiamo. Ora che il cancello è stato aperto dal bulldozer, dobbiamo subito entrare in quella casa. Il laboratorio di Naomi è da qualche parte. Dobbiamo infiltrarci lì e scoprire dov'è Naomi. Come ci ha detto Otacon. Ascoltateli sempre i consigli di Otacon, ragazzi. E guardatevi che Otacon è il nostro amico. Va via la modalità allerta. Sono stato beccato. Mi hanno sempre individuato. E appena mi vedono dicono è il nemico. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Sarà questa la strada giusta che ci porta al laboratorio della dottoressa Naomi, prigioniera? Facciamolo. Prima c'è da raccogliere un po' di roba. Ok, saliamo su questa scala. Direi che il video si può concludere, ragazzi. Vi saluto. Mettete un mi piace. Iscrivetevi al canale. E ricordatevi che siamo arrivati al laboratorio di ricerca. Scusate se il video è durato tanto.